ciao a tutti amici è un po che non faccio dei video approfitto di questo sabato di tranquillità per potervi parlare di nuovo questo che vedete alle mie spalle è una foto che realizzato qua nel mio comune dove vivo in provincia di savona per testimoniare come in mezzo alla natura purtroppo siamo abituati a vedere lo schifo alle spalle del torrente dove ho scattato la foto ci sono dei serbatoi che contengono petrolio grezzo che arriva dal mare con le navi ora vogliono farci credere che l'unico modo per avere l'energia necessaria a mantenere in vita al nostro lavoro la nostra società sia tramite il petrolio e i suoi principali derivati le cose non stanno affatto così per dimostrartelo ti faccio vedere una foto della pompa di calore aria acqua della odervisio questa azienda di treviso della quale ho l'onore di essere diventato il distributore per l'italia questa pompa di calore a otto chili di potenza e serve sia per raffrescare o riscaldare un edificio una villetta sia per produrre l'acqua calda sanitaria per farsi le docce caldo ovviamente e non ci vogliono miracoli per produrre l'energia necessaria per alimentare una pompa di calore come questa basta un impianto fotovoltaico sul tetto della tua abitazione oppure basta partecipare a una comunità energetica e ricevere l'energia elettrica pulita da qualche tuo socio della comunità che gratuitamente ti cede la propria energia perché l'energia che lui ti dà gratuitamente gli viene pagata dallo stato tramite l'azienda controllata il famoso GSE SPA quindi cari amici spero di ottenere due principali risultati anzi tre già che ci siamo siate generosi il primo è che tu metta mi piace e segua i miei video su tutti i principali social media il secondo è che rifletti sulla possibilità se hai soldini di farti un impianto fotovoltaico con questa pompa di calore made in italy tramite uno dei nostri partner di green mood italy e come ultima cosa se non hai i soldini per poterti fare un impianto fotovoltaico con pompa di calore diventare indipendente o vivi in un condominio mi puoi contattare per ricevere gratuitamente l'opportunità di entrare nella comunità energetica che copre la zona dove tu abiti così facendo avrai la possibilità di diventare il più indipendente possibile dal punto di vista energetico farai del bene al tuo portafoglio che è questo sempre importante soprattutto se hai una famiglia come me e se lotti tutti i giorni con l'aumentare del costo della vita ma farai anche del bene all'ambiente perché utilizzando energia pulita al cento per cento manteniamo bella la nostra natura ed evitiamo di prenderci dei tumori o altre malattie che ci rovinano la vita un saluto a tutti appena la moto passa da marco fai al tuo esperto del fotovoltaico ciao ragazzi condividete questo video grazie